Aspettando l'uscita di calciatori ragazzi che usciranno martedì le troverete già qui sul canale al day one Oggi abbiamo un attimo esagerato Ragazzi e ragazzi e soprattutto collezionisti bentornati sul canale Oggi ci andiamo a fare un bel unboxing misto di carte Adrenaline Abbiamo i pacchetti qua misti di vari anni Ora andiamo a scoprire quali pacchetti saranno Il tempo di lasciare un like e partiamo subito con lo spacchettamento Ed eccoci qui ragazzi spero che abbiate voluto lasciare un like se vi piacciono questi contenuti Mi raccomando iscrivetevi e attivate anche la campanella perché oggi ci andiamo ad aprire Due pacchetti di FIFA World Cup Qatar 2022 in queste due versioni Poi abbiamo l'unico pacchetto che non sarà Adrenaline ma sarà Mega Cracks ragazzi Per la prima volta su questo canale ci andiamo ad aprire un pacchetto di Mega Cracks E poi abbiamo Euro 2020 e poi abbiamo Euro 2016 E chiuderemo ragazzi con le Adrenaline XL del mondiale in Brasile Con in copertina proprio Neymar Quindi l'avete capito sarà uno spacchettamento tutto a tema mondiali Tranne ovviamente Mega Cracks E allora partiamo proprio ragazzi dal primo pacchetto Mega Cracks che ci andiamo ad aprire su questo canale Il pacchetto costa un Euro È una collezione ragazzi che esce in Spagna simile alle Adrenaline In Spagna escono tutte e due Questa è la rarità che si può trovare all'interno Il pacchetto contiene 6 carte La collezione è fatta da 495 carte Non perdiamoci in chiacchiere ed andiamo ad aprire subito questo pacchetto Vi faccio vedere come sono fatte Ricordano un po' le carte per magari i meno giovani di voi che uscivano circa una ventina d'anni fa in Italia Con dietro le statistiche dei giocatori A me piacciono veramente tanto E attenzione ragazzi non sapevo il trick da fare Partiamo subito con l'Elite firmata ragazzi da Vinicius Junior Ma che colpaccio è questo ragazzi? Subito l'Elite Fantastico ragazzi Non so ora bene la rarità Però comunque sicuramente una carta firmata Anche se la firma è stampata Di Vinicius Junior Nel primo pacchetto non è affatto male E poi abbiamo lo stemma del Celta E poi abbiamo Falì del Cadiz E poi abbiamo un giocatore del Raio Pallecano E poi abbiamo Mata del Getafe E abbiamo Haridan dello Sasuna Quindi ragazzi questo era il primo pacchetto di Mega Cracks Ora concentriamoci sull'Adrenaline in versione nazionale E partiamo quindi dal pacchetto più recente E dai pacchetti più recenti per arrivare al pacchetto più vecchio di questa Piccolo unboxing misto E quindi andiamo subito con il QR code ancora attivo Per quanto riguarda Qatar E abbiamo Game Changer de Rascaeta Poi andiamo a fare il trick in questo caso a due Perché una era girata E abbiamo Young Abbiamo Ter Stegen Abbiamo Danilo il giocatore della Juve Henderson E poi abbiamo Dia della Salernitana E Luis Suarez con dietro Giovanni Reina Altro pacchetto FIFA World Cup Qatar 2022 Pacchetto che usciva in Italia in questa versione E abbiamo subito il QR code per voi E poi andiamo a fare il trick in questo caso a tre E ce le giriamo già nel verso giusto Eccoci qua E abbiamo Bounou Portiere veramente rivelazione di questo mondiale E sotto abbiamo Ducu del Ghana Pickford dell'Inghilterra Godin E poi abbiamo Mohamed Marquinhos Bellissima questa Marquinhos Capitano del Brasile E sotto abbiamo Rui Patricio E Kostic Andiamo avanti quindi con il pacchetto di Euro 2020 Collezione ovviamente a noi molto cara Perché ci ricorda la vittoria del europeo Eccola qui nella versione kickoff 2021 Lo sapete l'europeo era stato rimandato E andiamo ad aprire Vediamo chi troviamo all'interno di questo pacchetto E abbiamo Sobol dell'Ucraina Alvaro Morata E poi abbiamo Pervan E poi Rossoschi E poi Jensen Christie Un codicino che ovviamente è scaduto Perché scadeva ragazzi nel 2021 Due carte che sono Embolo Fans Favorite E Multiple So e Chaga Beh dai Non male Poteva andare sicuramente meglio Le due rare Della Svizzera Ma allora Andiamo Facciamo ancora Un passo indietro E andiamo Su Euro 2016 Ma prima di passare Euro 2016 Ovviamente L'avete visto Sullo sfondo Ragazzi C'è la terza Maglia della Roma Che a me piace tantissimo Nero E rosa scuro Quasi rosso Non si capisce bene nemmeno dal vivo State tranquilli Non solo In video Con il primo stelma Perché ragazzi Magliaco.com E anche questo E anche terze maglie Le trovate ovviamente Nel link In descrizione Vi ricordo Il codice sconto Per avere il 15% Di sconto Su queste maglie in replica Fatte veramente Veramente molto bene Ovviamente Il codice È SC Che sta per Ovviamente Simone Collector Ragazzi Fate un salto sul sito Perché potrebbe essere anche Un'idea Come regalo Di Natale Per magari Un regalo Per una maglia Meno costosa Ovviamente in replica Ma fatta veramente Veramente bene Ragazzi E passiamo quindi Ora Alle Adrenaline Euro 2016 L'edizione in Francia La versione Road 2 Andiamo ad aprire Il pacchetto Era in Plastica E vediamo Chi troviamo All'interno Abbiamo Hosil E poi Vediamo un po' Giriamo Sono entrambe Girate Non ricordo Assolutamente Il trick Che c'era Da fare Facciamo così Abbiamo Lo stemma Dell'Italia Bello Vedete questa Carta nera Con I rilievi Sembra un po' Le carte Che escono Quest'anno In Match Attacks Mi ricordano Quelle anche Dal vivo E poi abbiamo Radeci E poi Diego Costa Della Spagna Poi abbiamo Robby Keen Dell'Irlanda E sotto abbiamo Rafael Varane Della Francia Ragazzi Siamo arrivati alla fine Ultimo pacchetto Il pacchetto Più vecchio di tutti Ragazzi Il mondiale 2014 In copertina Il Eto Enemar Andiamo a vedere Chi troviamo In questo pacchetto Eccoci qui Ragazzi Dopo 8 anni Andiamo ad aprire Questo pacchetto Che oltre che essere Di plastica È veramente Chiuso Molto Molto Bene E ragazzi Pacchetto Rimasto chiuso Per 8 anni Andiamo a vedere Chi troviamo All'interno E abbiamo Vertonghen E poi abbiamo Noboa Dell'Equador Poi abbiamo Jackson Martínez Della Colombia E poi Sotto Troviamo Attenzione Guardate Un pezzo di carta Tagliato male All'interno Del pacchetto Oddio Stranissimo Ragazzi Guardate Mai successo Mai successo Stranissimo E poi Giovanni Del Messico Attenzione Sotto Abbiamo La Iun Sempre Del Messico Come Fans Favorites Beh Pacchetto Un po' Scrauso Devo dire Comunque ragazzi Pacchetto Di 8 Anni fa Ragazzi Fatemi sapere Sotto nei commenti A livello Grafico Qual è La collezione Che vi piace Di più Di quelle Che abbiamo Aperto Oggi E soprattutto Fatemi sapere Se questo tipo Di video Vi possono Piacere Perché io Ho tanti Pacchetti Di diversi Anni Da parte Soprattutto Di Adrenaly Che ci potremo Andare ad aprire In questi video Di unboxing Mixi Misti Detto questo A me ne resta Che ringraziarvi Soprattutto Voi che siete Arrivati Come sempre Alla fine Del video E io vi auguro Una buona giornata Ciao 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 Ciao